Buongiorno a tutti da Matteo Lombardi e da Radio Roma Futura.it, stiamo trasmettendo le informazioni meteorologiche di Pigneto, la stazione medio del Pigneto del municipio Roma 5. Oggi la giornata si presenta serena o quasi, con piccoli addensamenti nuolosi che andranno via via aumentando nella tarda serata. Ci saranno le temperature che oscilleranno tra i 6 e i 16 gradi centigradi, quindi non si prevedono grandi cambiamenti rispetto alla giornata di ieri. I venti saranno tra i 1 e i 2 km orari, quindi non saranno particolarmente intensi e per gli amanti dell'almanacco ricordiamo che la giornata più fredda mai registrata di 10 marzo fu nel 1997 in cui la temperatura arrivò a 0 gradi centigradi, mentre nel 2003 la temperatura registrò 20 gradi centigradi segnando la giornata più calda del 10 marzo. Per quanto riguarda la gobba, come già detto ieri, è allevante, abbiamo un 83% di illuminazione. Oggi l'intensità della luce visibile durerà per 11 ore e 39 minuti. Anche per questa mattina è tutto, buona giornata e buon tutto.